Benvenuti da Engineering. Questo webinar è organizzato in collaborazione con Siemens ed è dedicato allo strumento di simulazione CFD integrato in Solid Edge, SimCenter FlowFD. Io sono Maurizio Bossi di Siemens e mi occupo delle soluzioni di simulazione. Ho preparato questa presentazione per dare un overview su cosa vuol dire, su cosa intentiamo per front load simulation e quindi quando è importante applicare questo tipo di approccio durante il ciclo di sviluppo di prodotto, in quali settori industriali e anche poi perché, quali sono i benefici e i vantaggi. Iniziamo a vedere quali sono, diciamo, quelli che sono gli obiettivi dei vostri clienti, quelli che vi chiedono quotidianamente i vostri clienti, che sono quello di avere dei nuovi impianti, nuovi macchinari che abbiano, siano più efficienti da un punto di vista energetico, che siano sempre più reliable, come dicono gli americani e gli inglesi, quindi con più accuratezza e affidabilità, quindi con migliori prestazioni, ma soprattutto anche sempre più connessi. Non si parla più di macchinari industriali prettamente meccanici, ma ormai l'elettronica è entrata a far parte anche del mondo manifatturiera pesantemente, per cui si parla più di meccatronica che non di meccanica. Cosa vuol dire simulare? Simulare vuol dire valutare virtualmente le prestazioni di un prodotto o un macchinario nelle reali condizioni di utilizzo, quindi fare un digital twin del modello. Digital twin, cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente avere una copia perfettamente identica, equivalente a un modello fisico, questo ovviamente in virtuale sul modello CAD. Quando è importante applicare queste tecnologie, quindi di simulazione, sicuramente all'inizio del processo di progettazione, perché i costi nascosti dello sviluppo vengono commessi, vengono già stabiliti all'inizio della progettazione, ovvero quando io sono nella fase di progettazione e di sviluppo, ho già identificato, già stabilito almeno l'85% dei costi finali del mio progetto. Quindi è in quell'area che se io vado ad operare con della simulazione, sono in grado di avere dei maggiori benefici, perché riesco sostanzialmente a costi di modifiche virtuali, quindi non su modelli fisici, sono in grado quindi di effettuare delle modifiche e delle variazioni per migliorare le prestazioni, migliorare l'efficienza energetica, aumentare la fidibilità dei macchinari già in quella fase, senza dover arrivare al prototipo, testarlo e poi verificare. Un altro vantaggio di farlo all'inizio in virtuale è che ovviamente è uno strumento di simulazione, mi permette di vedere tutte quelle informazioni che sul modello fisico non sono in grado di verificare, a meno che di non avere un macchinario pieno di sensore, quindi molto molto costoso e anche talvolta infattibile per problemi fisici di dove montare il sensore. Dove possiamo utilizzare, quindi dove posso ottenere dei vantaggi, dei benefici dall'utilizzo di FlowFD, che è una tecnologia di front load simulation, up front simulation, quindi simulazione in fase di progettazione integrata nel CAD, in qualsiasi settore industriale, quindi dall'automotive all'aerospace, che ormai ne fanno da padrone da anni, ma anche nell'industrial machinery equipment, nella ventilazione industriale, nell'electronics, nel consumer electronics o electronics in genere, nel medicale, quindi in qualsiasi ambito industriale, sono in grado di ottenere dei vantaggi dalla simulazione fluidodinamica integrata nel CAD. Andiamo un attimino più nel dettaglio, magari ci concentriamo poi sulla parte più industriale elettronica, che è quella dove la maggior parte di voi lavora, però come vedete le applicazioni nei diversi ambiti sono veramente innumerevoli. Andiamo a vedere nelle applicazioni industriali, quindi parliamo di Fluid Flow, quindi di simulare, prevedere il flusso dei fluidi, i fluidi si intende quindi liquidi e gas all'interno di condotti tubazioni attraverso delle valvole, quindi per verificare le cadute di pressione, verificare possibili condizioni di cavitazione che vanno poi a creare dei problemi meccanici sui componenti, verificare degli impianti di riempimento, quindi di imbottigliamento per esempio, come anche parte poi di filtrazione o separatori, o di separatori. Fluidi che possono essere, come dicevo, gas o liquidi, che possono essere newtoniani o non newtoniani. Altre applicazioni sono nell'ambito di pompe, turbine, quindi dove ho degli organi rotativi in movimento per verificare appunto la curva prestazionale della mia pompa nelle condizioni operative che voglio che questa lavori. Oltre alla parte fluidi flow embedded nell'applicazione c'è anche la simulazione termica che viene effettuata in concomitanza insieme all'analisi fluidoidinamica, quindi posso verificare anche tutte quelle situazioni dove la parte termica è importante, quindi nei refrigeratori, negli scambiatori di calore, forni industriali, fornaci. Posso valutare anche con delle applicativi verticali che funzionano insieme a Fluidinamica, anche effetti di combustione, condensazione, quindi ho un piccolo cambio di fase in quel caso dove devo valutare l'evaporazione e la condensazione. Nell'applicazione, come dicevo prima, di ventilazione, quindi la ventilazione all'interno di ambienti civili o ambienti pubblici, verificare anche l'aerodinamica esterna, quindi il carico dell'aria sulle pareti di un determinato edificio, non solo quindi la parte termica, posso considerare la radiazione solare e quindi verificare qual è il comfort di una persona che sta all'interno di un determinato ambiente, oltre che verificare, avere tutti quei coefficienti che mi permettono di verificare anche la permanenza media delle particelle all'interno di un ambiente chiuso, quindi verificare quando ho un completo ricircolo dell'aria. Questo viene utilizzato magari per gli ambienti sanificati o sale ospedaliere, per esempio, sale operatorie o determinati ambienti anche di produzione dove ho bisogno di avere un ambiente sterile, sostanzialmente, se ho il packaging di farmaci, per esempio, o di altri dispositivi elettronici dove la polvere può andare a danneggiare i vari componenti e quindi sono in produzione, la produzione deve avvenire in un ambiente sterile. Applicazioni in campo elettronico. In campo elettronico posso andare appunto da qualsiasi dispositivo elettronico legato al mondo dell'elettrificazione, visto che in questo ultimo periodo si parla molto di elettrificazione, quindi il comportamento termico delle centraline elettroniche, delle pacchi batterie. Posso andare a verificare anche la dissipazione termica dei PCB, quindi delle schede madre sostanzialmente elettroniche, della parte di illuminazione LED, quindi non solo automotive, ma anche per illuminazione in generale, illuminazione stradale, illuminazione anche domestica. Prevalentemente l'illuminazione stradale è dove si ha una maggiore attenzione per gli effetti di condensazione e effetti anche poi di funzionamento in diverse condizioni climatiche di temperatura, essendo appunto all'esterno. Quindi perché simulare? Vediamo alcuni esempi, alcune metriche. Innanzitutto partiamo da perché FluFD per solidece. Allora, perché è completamente integrato in Solid Edge. Come vedete nel filmato qui accanto, io ho l'interfaccia del mio CAD, dove ho disegnato questo scambiatore di calore, e questo scambiatore di calore, ovviamente ho già dei materiali assegnati per quanto riguarda le parti solide, dovrò andare semplicemente a definire gli ingressi e le uscite dei fluidi, con le temperature e le velocità chiaramente, e andare a chiudere gli ingressi e le uscite. Automaticamente il software identifica il volume del vuoto, ovvero se devo fare una simulazione fluido-dinamica, devo ovviamente avere un modello a elementi finiti che mi permetta di simulare il percorso del fluido all'interno appunto di questo scambiatore di calore. Questo viene effettuato in automatico. Come anche la mesciatura viene effettuata in automatico. C'è un algoritmo brevettato di Smart Cell che mi permette in automatico di discretizzare, quindi dividere il modello in tanti piccoli elementi che sono quelli che servono per la simulazione. La mesciatura, per chi mi ha sentito parlare, in funzione del grado di infittimento, mi dà dei risultati più o meno accurati, questa tecnologia mi permette ovviamente di identificare in funzione delle dimensioni della singola feature, dell'oggetto che è modellato, di avere una mescia adeguatamente accurata e di andarla ad affinarla in funzione dei risultati che si ottengono, quindi in automatico, mentre vengono fatti dei piccoli calcoli per vedere se i parametri sono stabili o hanno delle variazioni in modo tale da infittere determinate zone. Volendo posso metterci anche le mani e definire io in qualche zona nel momento in cui sono diventato un pochettino più esperto nell'utilizzo dello strumento a infittere qualche zona, però funziona molto molto bene in automatico. È un assolutore, sono assolutori molto affidabili, ci sono anche dei documenti di validazione, in più a questo ci sono anche dei verticali per aziende che hanno delle necessità che vanno oltre lo standard, quindi ho delle necessità di calcolare, non so, la combustione, ho la necessità di verificare dell'umidità o devo verificare anche delle particolari schede elettroniche che rispettano determinati standard, ci sono dei verticali che mi abilitano il software ad avere quelle informazioni in più rispetto a quelle standard. Nella versione standard o comunque la simulazione termofluido dinamica completa della maggior parte di algoritmi di turbolenza e altro. Qual è il vantaggio rispetto ad un approccio tradizionale? Il vantaggio è che ovviamente è tutto integrato all'interno dell'ambiente, non devo scrivere un file step, I guess, o comunque esportare il mio modello in un altro ambiente nel quale poi dopo devo fare in semi-automatico o manuale una misciatura dove devo avere chiaramente un po' di esperienza sulla parte di come discretizzare il modello per fare la simulazione. Faccio la simulazione, verifico, valuto che alcune situazioni possano essere migliorate, per cui ritorno nel CAD, rifaccio le modifiche, riesporto il modello, lo rimetto all'interno dello strumento di simulazione, rieffetto un'analisi e così via di seguito fin tanto quando non ho trovato una soluzione che mi soddisfa. Avendo tutto all'interno del CAD, chiaramente tutto è adattativo, quindi nel momento in cui verifico che determinate situazioni non mi piacciono, modifico direttamente il modello CAD, aggiorno la misciatura e rilancio il calcolo. La misciatura che viene aggiornata, come dicevo prima, in automatico. In questo caso, in basso a destra, vedete per esempio l'applicazione di un mixer industriale. Quali sono questi verticali, questi add-on modus? Quindi per chi fa applicazioni LED lighting, ci sono dei verticali che mi permettono di verificare sia su LED sia sulle lampade, effetti di condensazione e icing. Per chi fa del raffreddamento elettronico, ha la possibilità appunto di fare le simulazioni sulle piste dei PCB e valutare i circuiti integrati. Per il settore dell'HVAC ho alcuni materiali specifici e parametri di comfort che vengono utilizzati nel settore, da alcune normative del settore. Io la simulazione la posso fare comunque anche senza questi verticali. Ovviamente in questo caso ho delle informazioni in più. quindi la possibilità di collegarmi un po' con un EDA, quindi un software di progettazione elettrica per importare direttamente i modelli elettrici, dei circuiti elettronici. Quello che probabilmente a qualcuno di voi potrebbe essere interessante, visto in ambito industriale, è la parte Advanced, dove vado a calcolare velocità ipersoniche e la parte di condensazione, la parte di combustione, la parte di icing e la parte di film che viene creata sulle superfici solide. Quindi per chi ha delle applicazioni un po' più di alto livello magari questa parte può essere interessante. La parte di Power Electronics è dedicata prevalentemente a chi sviluppa delle celle per le batterie, perché mi considera anche l'elettrochimica, quindi la temperatura generata per l'elettrochimica. Quindi parliamo proprio di chi sviluppa le celle delle batterie. E poi c'è una parte di calcolo elettromagnetico, quindi per chi sviluppa appunto componenti elettromagnetici, trasformatori per esempio, e una parte anche strutturale che mi permette sostanzialmente di fare dei calcoli, in questo caso lineare, buckling o modali, tenendo in considerazione come carico i risultati di temperatura e pressione che sono calcolati dalla parte termofluidodinamica. Altro on top al software della versione di base c'è la possibilità anche di avere una design exploration, quindi un software che mi permette in automatico di generare, di fare una serie di studi diversificati in funzione dei parametri multiparametri che io gli do come obiettivo iniziale. In questo caso l'obiettivo era quello di abbassare il più possibile la temperatura di questa scheda elettronica e quindi di andare a modificare dimensione passo dei pin di raffreddamento il software in automatico mi propone tutta una serie di simulazioni in automatico, quindi cambia lui in automatico la geometria tra le quali io posso scegliere quella che mi dà un risultato soddisfacente magari valutando anche la complessità di costruzione della stessa. Vediamo un po' di applicazione, in questo caso è una macchina di filling and packing, ovviamente questa macchina qua mi deve riempire delle bustine con del fluido e c'è in alto, se vedete in questa zona, quindi in alto al centro del macchinario, un rullo saldante dove praticamente grazie alla temperatura ovviamente mi va a saldare le bustine per poi tirarle fuori, quindi è una macchina che ha un po' di converting, filling e la parte di saldatura. Ovviamente per funzionare correttamente tutta la parte di filling e il resto deve lavorare a certe temperature, la resistenza mi scalda all'interno del macchinario, l'obiettivo in questo caso era quello di trovare una soluzione di ventilazione forzata dove posizionare le ventole, dove posizionare le griglie per poter evacuare velocemente l'aria calda e far lavorare il macchinario nelle condizioni di temperatura basse. In quest'altro caso era una stazione di lavaggio e asciugatura di pezzi dove è stata studiata tutta la posizione degli ugelli per riuscire ovviamente a effettuare la lavorazione in modo efficace senza sprecare energia fondamentalmente e quindi per ottimizzare il flusso di aria compressa verso l'oggetto. Passiamo ad un'altra industria in questo caso parliamo di estrusione e quindi di messa a punto di testa di estrusione per fare delle tubazioni quindi in questo caso la tubazione è una tubazione come vedete di 2,6 metri di diametro dove vengono oltretutto sovrapposti di 7 diversi materiali quindi a una coestrusione a diversi strati quindi l'obiettivo era quello di trovare le condizioni operative di portata e temperatura delle varie zone affinché si sovrapponessero correttamente ed esce un tubo perfettamente prodotto con i vari strati dello spessore necessario Sempre nel campo di plastica in questo caso l'obiettivo era quello di studiare delle attrezzature che permettessero un aumento di produttività e questa azienda ne sviluppa circa 50 nuove all'anno quindi provate a pensare costruire un'atterrezzatura metterla su una macchina di produzione in questo caso un estrusore fare la verifica se il profilo esce correttamente dritto, non storto con la giusta densità la giusta qualità superficiale e quant'altro nel momento in cui non va bene devo rismontarla pensare che quali modifiche fare e andare a fare fisicamente le modifiche il tempo di sviluppo è decisamente molto molto elevato grazie alla simulazione riescono ovviamente ad accorciare quello che è il tempo di sviluppo e a ottenere un'attrezzatura che consente di ottenere dei componenti di qualità un altro campo industriale in questo caso è una macchina di lavorazione meccanica dove sostanzialmente l'obiettivo era quello di andare a raffreddare correttamente la zona di taglio in modo tale da migliorare la qualità e la resistenza dell'utensile quindi da un lato migliorare la qualità della lavorazione e aumentare la durata in quest'altro caso altra applicazione industriale dove ho questa turbina in questo caso è una simulazione termofluido dinamica dove è stato studiato una forma di turbina e la sua sede affinché riuscisse a lavorare con prestazioni ottimali riducendo la temperatura di esercizio e quindi eventuali possibili rotture della girante un altro applicazione in questo caso è abbastanza innovativa dove sostanzialmente utilizzo dei fluidi di produzione per andare a immagazzinare dell'energia sostanzialmente c'è un link a youtube che fa vedere bene la storia climatica è uno dei maggiori problemi che l'umanità deve face al presente è necessario di più che l'air e il sole per trasportare l'energia sostanzialmente bisogna innovativi soluzioni che generano energia e fondamentale cambiare la forma di usare energia questo significa che bisogna proporzare energia quando lo user ha bisogno questo è l'unico di KraftBlock è un'unico di superiore di energetica è un'unico di superiore di energetica il materiale che è fatto di prodotti riciclati prodotti can store heat from different heat transfer media at temperature levels of up to 1300 degrees centigrade the modular units can be operated individually or together as large volume systems as either stationary or mobile implications KraftBlock stores up to 1.2 megawatt hour heat per cubic meter of storage space up to 15,000 cycles this is much more ecological, efficient and durable than other energy storage sources the secret to KraftBlock's efficiency is its extremely productive granulate in addition to its high storage capacity it offers a very low CO2 footprint due to the high proportion of recycled materials it can also be easily adjusted to various applications in the field of power and waste heat such as power to X and heat to X since 2018 we have been using Solid Edge from Siemens as a cat and development software since 2018 Solid Edge makes it easier for us to design as well as customize and enables us to simulate systems using the SimCenter Flow EFD for Solid Edge extension it doesn't matter whether we develop products in the field of power storage or industrial weight heat storage Solid Edge makes it possible for us to map and simulate all systems and thus deliver credible data to the customer our vision for the future is to develop a sustainable energy system based on scalable, affordable and highly efficient storage and therefore it takes over the future to the system dei fluidi che mi arrivano dalla produzione sostanzialmente allora siamo giunti quasi al termine dell'overview ci sono delle risorse disponibili a questo link o inquadrando il QR code avete accesso a questa pagina internet dove vi potete registrare per una trial del software è una trial che non si scarica sostanzialmente c'è una macchina virtuale con dei modelli preconfezionati dove voi passo passo potete fare delle simulazioni seguendo le indicazioni quindi è una sorta di tutorial su una macchina virtuale ma che vi permette di valutare effettivamente com'è l'interfaccia utente come riuscite ad operare sostanzialmente con il software un'altra risorsa disponibile è il learning portal di Siemens sempre inquadrando il QR code riuscite ad accedere direttamente alla pagina in questo caso c'è tutta una serie di training on demand che in teoria sono a pagamento però anche in questo caso qua avete il 30 giorni trial quindi uno si può registrare e accedere a diversi materiali tutorial sempre su macchine virtuali quindi senza installare nulla sul vostro computer riuscite ad avere una prima inferenatura sulle potenzialità del software e quant'altro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti